A Camerino inaugurazione del reparto dialisi dell'ospedale Santa Maria della Pietà. L'ospedale viene dotato di 7 posti letto di amodialisi per un potenziale di trattamento di circa 25 pazienti che potranno usufruire delle cure del nuovo reparto. Dobbiamo garantire alla zona cratere che è stata claramente colpita i servizi necessari. Naturalmente questo significa che l'intervento che viene fatto oggi su Camerino tende a valorizzare le risorse esistenti e a dare una copertura alla domanda dei servizi sanitari. Il che significa che stiamo anche facendo un intervento molto significativo sull'ospedale di Tolentino. Fra qualche settimana verrà messa a gara l'appalto di esecuzione dei lavori. Il progetto è già stato acquisito, è un investimento molto importante anche su Tolentino. Sono quasi 30 milioni di investimento. Adesso ci stiamo occupando su Tolentino degli ambulatori, ma voglio concentrare tutta l'attenzione su Camerino. Camerino è un ospedale di primo livello e stiamo cercando con tutte le risorse disponibili di poterlo potenziare. Aprire un nuovo punto di erogazione del servizio amodialitico in questo ospedale è molto importante. Molto importante inoltre non solo per la patologia cronica, ma anche per i casi di insufficienza renale che si possono verificare in questa struttura. È un reparto di cui avevamo necessità. Sappiamo che senza nulla togliere a Tolentino, dove verranno conservati i posti di dialisi, comunque molti pazienti dovevano affrontare un viaggio importante da Camerino a Tolentino. Sappiamo che sono pazienti con una certa fragilità. Stiamo rispondendo ai fabbisogni della cittadinanza, per cui è con orgoglio che oggi andiamo a inaugurare questa nuova postazione di dialisi.